Il bilancio della breve e sanguinosa parabola del gruppo terroristico Prima Linea è di 101 attentati, 18 morti e 23 feriti. Tra le vittime anche il giudice Emilio Alessandrini, il giudice Guido Galli che erano entrambi garantisti ed entrambi impegnati anche in una riforma del sistema giudiziario. Prima Linea era un gruppo spontaneista senza un vero e proprio progetto politico che non fosse semplicemente l'attacco allo Stato ed è seconda solo alle BR per numero di azioni e di aderenti anche se in realtà poi la sua storia si consuma nell'arco di pochi anni. L'eruzione della sede del gruppo dirigenti Fiat di Torino in realtà è la prima azione ufficialmente rivendicata da Prima Linea, ma in realtà il gruppo aveva già ucciso in aprile a Milano un consigliere provinciale del movimento sociale italiano. Qual è la caratteristica che è la differenza tra Prima Linea ed altre organizzazioni terroristiche degli anni 70? Innanzitutto Prima Linea rifiutava il militarismo delle Brigate Rosse, se poteva evitava la clandestinità dei suoi componenti, anzi una delle peculiarità era che i ragazzi che aderivano a Prima Linea continuavano a svolgere una vita assolutamente normale e insospettabile. Molti erano impiegati e andavano regolarmente in ufficio per esempio, custodivano le armi non in covi che non avevano ma direttamente in casa propria e poi improvvisamente in realtà entravano in azione in modo assolutamente spietato, basta pensare alle azioni afferrate e agli omicidi di cui abbiamo accennato poco fa. Rimarrà celebre anche una polemica politica dettata al ruolo che l'allora ministro degli interni Cossiga svolse per il caso Don Accatene, uno dei terroristi di Prima Linea era il figlio del dirigente democristiano ed era riuscito a riparare in Francia dove nel 1980 verrà arrestato. Ecco in realtà la storia di Prima Linea finirà abbastanza rapidamente con un'ondata di arresti, con le rivelazioni dei pentiti e forse anche a causa della mancanza di un progetto politico vero e proprio e in realtà del fallimento della radice stessa della lotta armata perché in realtà il consenso della classe operaia che loro volevano in qualche modo portare al potere di fatto non c'era, tutto questo causerà appunto la fine abbastanza repentina di questo gruppo terroristico e della sua tragica avventura.